Ogni cosa è connessa alle altre in una serie intricata di relazioni. Potremmo cambiare un solo secondo nella vita dei nostri genitori, prima del nostro concepimento, per non essere qui. Lo spermatozoo vincente sarebbe stato un altro, e dunque noi non esisteremmo. E questo solamente a patto che i nostri genitori si siano conosciuti, e che i loro genitori, a loro volta, si siano conosciuti. Il che richiede un'interminabile serie di eventi casuali. Ogni singola cosa avvenuta dall'alba dei tempi ha contribuito a portarci qui, in questo momento. Potremmo cambiare qualunque minuscola cosa nella vita dei nostri antenati, e noi non esisteremmo. Ogni azione dà origine ad una interminabile catena di relazioni. Spesso riteniamo che le nostre azioni siano insignificanti perché non influiscono sul cosmo o sul grande schema delle cose. Ci dimentichiamo però come non esistono azioni prive di conseguenze, e non è possibile in alcun modo cancellare quanto avvenuto. Nel corso della mia vita mi è capitato di osservare come a distanza di anni una singola frase detta da qualcuno ha condizionato la mia vita e le mie scelte. Spesso non prendiamo coscienza di ciò perché siamo abituati ad osservare solamente le conseguenze dirette di un'azione e non quelle indirette. Potremmo ad esempio compiere una determinata scelta apparentemente insignificante. Ciò che abbiamo fatto comunque non è semplicemente la scelta in sé. Abbiamo comunicato al nostro cervello di essere in grado di compiere quella determinata azione, e in modo tale amplifichiamo la probabilità di compiere una seconda volta un'azione analoga in un contesto simile. Inoltre ciò darà origine ad una serie di conseguenze sul modo in cui noi percepiamo noi stessi, come ci relazioniamo agli altri e le scelte che compiremo nel futuro. Poche persone si accorgono di questo, o comunque sembrano agire tenendo conto di questo fattore. Probabilmente perché è una realizzazione inquietante. Dunque ci risulta preferibile credere che tutto ciò che facciamo sia irrelevante, piuttosto che accettare come ogni nostra azione si ripercuota sulla complessa rete sociale o familiare in cui siamo inseriti. La cosa positiva è che se si tiene conto di ciò, ogni nostra azione acquisisce significato ed importanza, in virtù del fatto che nulla è realmente privo di conseguenze. Aiutare una singola persona può voler dire aiutare il mondo intero, dare origine ad una serie incontrollabile di azioni e reazioni. Quando realizzo questi video, ad esempio, tento di fare particolare attenzione alle parole che utilizzo, agli argomenti di cui tratto, perché so che se anche li dovessero ascoltare pochissime persone e probabilmente non cambieranno radicalmente la loro vita, comunque non saranno indifferenti e susciteranno pensieri, i quali a loro volta diventeranno riflessioni, le quali a loro volta diventeranno scelte. Spesso ci rassegniamo quando ci rendiamo conto di non poter cambiare il mondo come speravamo. Tale disillusione non deve però portarci all'erronea e dannosa conclusione per cui tutto ciò che facciamo è irrilevante. Forse per noi è impossibile nell'arco di una generazione cambiare il mondo radicalmente, ma se fosse inevitabile per noi influenzarlo? E se davvero non ci rendessimo conto delle dimensioni della nostra influenza sulle altre persone? Jordan Peterson ci ricorda come viviamo in una rete sociale e che si interagissimo con mille persone ad esempio nell'arco della nostra vita, le nostre azioni avrebbero conseguenze indirettamente su un milione di persone. Come prendere consapevolezza di ciò? Semplicemente osservando il corso delle cose, come l'esistenza del più piccolo degli esseri è legata all'esistenza di tutti gli altri. Ad esempio un'ape non può vivere senza i fiori, i quali non possono esistere senza il sole, il quale è inserito nel sistema solare e così via. È necessario tutto l'universo per l'esistenza di un fiore. I buddhisti esortano a meditare sull'interdipendenza di tutte le cose. Marco Aurelio stesso dice di meditare sul vincolo che unisce tutte le cose del cosmo e sul loro reciproco rapporto. Questa idea è dunque fondamentale da tenere a mente per agire in piena consapevolezza, ricordandoci dell'importanza di quel che facciamo e di come le nostre azioni si ripercuotono sulle altre persone. Vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e un commento e a iscrivervi se non siete già iscritti. E noi ci vediamo nel futuro!